Dopo ben 56.000 violazioni rilevate dalla Polizia Provinciale di Cremona per l'alta velocità nel 2022, il 2023 si apre con il primo trimestre in calo del 10%. Il dato più grave, che resta costante, è quello delle infrazioni gravi che comportano la sospensione della patente. Nell'anno 2022 sono state accertate delle violazioni con sospensione a patenti di guida per 84 ritire e sospensioni di patente. Il dato sempre trimestrale è di 8 per il 2023, quindi il primo trimestre del 2023 ha visto la sospensione di 8 patenti di guida. Confrontate con il 2022 eravamo a 7 patenti di guida, quindi comunque è un dato che resta in linea. La maggior parte delle violazioni avvengono la notte. L'età anagrafica non si può evincere dalle rilevazioni elettroniche, ma solo da quelle effettuate dalle pattuglie, che evidenziano persone giovani più spesso coinvolte in questo genere di infrazioni. Ci sono un buon numero, una buona percentuale di violazioni, vengono comunque contestate e rilevate in orari notturni. Tra l'altro il codice della strada nell'orario notturno prevede un incremento della sanzione. Gioveranno ad un incremento dei controlli le nuove assunzioni previste entro il 2023, tenendo conto che oltre all'ambito stradale la polizia provinciale si occupa di quello ittico venatorio. Il comando della polizia provinciale è composto da 11 operatori, sono previste delle nuove assunzioni per l'anno 2023. si riescono a garantire quattro pattuglie giornaliere, due nell'orario antimeridiano e due nell'orario pomeridiano, con un servizio totale dalle ore 7 alle ore 19 e con una reperibilità notturna, che chiaramente viene garantita anche alle altre forze di polizia nel caso di necessità.